L'approfondimento di oggi è dedicato all'economia, soprattutto al tessuto economico della nostra provincia, non solo città ma provincia, insomma come stanno le cose, ce lo spiega il presidente di Confindustria, Bergamo Stefano Scaglia, che torna a trovarci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Come stiamo, insomma, come vanno le cose in questo periodo, anche perché siamo alla vigilia, praticamente di una nuova assemblea di Confindustria, nella quale evidentemente verranno svelati tanti dati, oltre al tema generale. L'economia bergamasca sicuramente sta andando bene, l'onda della ripresa continua, abbiamo visto dei dati di export molto positivi, siamo cresciuti ancora, il primo trimestre del 2018 è cresciuto del 6% rispetto al primo trimestre corrispondente del 2017, quindi possiamo dire che siamo competitivi, siamo competitivi anche sui mercati aperti e questo dimostra la grande capacità delle nostre imprese di dotarsi di un'infrastruttura, delle competenze, delle persone che possono competere in campo internazionale. È luce vera, quindi non è che si intravede la luce, ma insomma effettivamente qualche spiraglio reale. Direi di sì, direi di sì. Connessi verso il futuro, allora il 23 ottobre, quindi martedì prossimo, ci sarà l'Assemblea Generale di Confindustria, questo è il titolo che avete scelto, Connessi verso il futuro, Bergamo, modello di attrattività e di competitività. Che cosa vuol dire essere connessi? Ma abbiamo voluto dividere il titolo in due parti, essere connessi perché l'anno scorso abbiamo parlato di persone, abbiamo parlato di persone al centro dell'innovazione. Noi quest'anno vogliamo completare questo messaggio e dire che delle persone, delle imprese, una comunità che è chiusa su se stessa e non riesce ad aprirsi al mondo, allo scambio di idee, allo scambio in generale di persone, di merci, è una comunità che non riesce a dispiegare tutto il suo potenziale di sviluppo. Quindi vogliamo qui sostenere in un momento in cui sembra che i nazionalismi portano a dazi, portano a guerre commerciali, vogliamo sostenere che è importante continuare a essere aperti verso il mondo e accettare le sfide e come dicevamo prima Bergamo è in grado di sostenerle. Conne, allora, persone, merci e dati, questi tre elementi che favoriscono la connessione? Sì, assolutamente, infatti anche gli ospiti che abbiamo scelto ci parleranno di queste tematiche. Avremo il professor Paleari, commissario all'Italia, e il director di Ryanair che ci parleranno del loro modello di connessione, di mettere in contatto le persone. Avremo Amazon che ci parlerà di un nuovo modello di mettere in contatto le imprese tramite le loro merci e il presidente di Ferrovie che ci parlerà non solo di connessioni digitali ma anche naturalmente di infrastrutture, di infrastrutture ferroviarie di cui tanto abbiamo bisogno e a cui chiederemo anche qualche novità relativamente al nostro territorio. Allo Scalo Merci? Non ci sono ancora novità relative allo Scalo Merci? Relativamente allo Scalo Merci non ci sono ancora novità definite o definitive e noi continuiamo a dare il nostro contributo e ad assistere le istituzioni per trovare una soluzione. Quello che però crediamo sia molto importante sia, ed è per questo che abbiamo scelto l'aeroporto come luogo della nostra assemblea, crediamo che sia molto importante dotarci di infrastrutture anche di collegamento dell'aeroporto con la nostra città e soprattutto della nostra città con il capoluogo milanese. collegamenti, connessioni, insomma sempre lì si tornano, bisogna che tutto sia favorito nel migliore dei modi. A proposito dello Scalo Merci solo l'ultima cosa, qualora si dovesse arrivare a decidere che lo Scalo Merci a Bergamo non si può fare, quindi se ci si dovesse appoggiare su altre città che dire, sarebbe un danno per l'economia bergamasca? Ma sicuramente, dopo le imprese naturalmente cercano di adattarsi, è chiaro che noi abbiamo un deficit di competitività e di produttività, tutti parlano della mancata crescita di produttività delle imprese italiane, le imprese italiane lavorano moltissimo e hanno aumentato la loro capacità competitiva, al loro interno quello che purtroppo continua a essere difficile da conseguire è la nostra capacità competitiva al di fuori delle nostre fabbriche. A proposito di economia, sono ore un po' cruciali, perché deve essere approvato il documento, il DEF, che chiaramente per voi è un elemento molto importante, siete con le antenne alzate? Sì, sicuramente, ma non solo per noi, credo per tutto il Paese è un momento importante, un momento in cui vengono fatte delle scelte sicuramente che avranno delle ripercussioni. Questa bozza di decreto fiscale com'è? Quello che abbiamo visto non è una cosa che crediamo vada nella direzione auspicata, nel senso che ci sembra che manchino provvedimenti nella direzione dello sviluppo, nella direzione della crescita dell'economia. I due provvedimenti simbolo dei due partiti attualmente al governo, che sono il reddito di cittadinanza da una parte e l'anticipo pensionistico dall'altra, crediamo che non vadano nella giusta direzione, ma dobbiamo vedere come saranno poi effettivamente congegnati. So che oggi se ne sta discutendo, speriamo che il reddito di cittadinanza non sia solo assistenzialismo, ma sia una vera revisione dei centri per l'impiego, per consentire una riconversione delle professionalità e speriamo anche che nella revisione della legge Fornero non si vada a penalizzare eccessivamente i giovani, perché teniamo presente che il problema dei baby boomer, cioè quelli degli anni 60 che andranno in pensione tra poco e che saranno molti, dovranno essere pensioni pagate dai giovani, che sappiamo che sono molto meno di quelli che andano in pensione. Quindi credo che sia un atto di responsabilità verso le generazioni future, mettere in piedi un meccanismo di attuazione che non le penalizzi eccessivamente. E certo, perché se da un lato si vogliono agevolare i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro, dall'altro però se la gente va in pensione molto presto e quindi ha una prospettiva di vita molto lunga, è evidente che prenderà la pensione per tanti anni. Chi la paga questa pensione? I giovani che lavorano. I giovani, quindi insomma il meccanismo è come dire, è il gatto che si morde la coda, la vostra ricetta quale sarebbe? Ma noi crediamo che naturalmente, e ci si sta avvicinando come è stata fatta la riforma delle pensioni, che è stata fatta una riforma col metodo contributivo, quindi si prenderà tanta pensione quanto uno ha accumulato di contributi e questo automaticamente dovrebbe stabilizzare il sistema. Per quanto riguarda i giovani, noi crediamo che la cosa importante sarebbe stata quella di dedicare le risorse a una riduzione del cuneo fiscale per il lavoro dipendente, che avrebbe sicuramente consentito a tutti i lavoratori di avere più salario netto e quindi più potere di acquisto e di lasciare alle imprese i benefici che ci sono oggi sulle decisioni di investimento. Questi sarebbero stati due provvedimenti che secondo noi sarebbero andati più incontro ad uno sviluppo. E per questo tipo di provvedimenti invece non c'è alcun tipo di spiraglio, di speranza? Ma adesso vediamo, per quanto riguarda le imprese si sta parlando di una riduzione di IRS per le imprese che reinvestono gli utili o che fanno nuove assunzioni, però siamo ancora nella fase delle ipotesi, quindi aspettiamo di vedere, stasera probabilmente sapremo qualche dettaglio in più su questo tema. Ebbene sì, e c'è tanta attesa perché è evidente che non solo è in ballo il destino delle aziende ma è il destino dell'Italia intera, quindi c'è tanta tanta attesa. Approfitto della sua presenza anche per fare un attimo il focus sull'occupazione, occupazione nella nostra provincia, migliorano i dati? Sì, la nostra provincia fortunatamente sta vivendo un momento molto positivo, la nostra disoccupazione ormai è quasi sotto il 4%, siamo alla seconda provincia in Italia con la disoccupazione più bassa dopo Bolzano e questo se da una parte è molto positivo, dall'altra pone alle nostre imprese dei seri problemi, problemi che fanno sì che ci sia sempre più difficoltà a reperire personale, personale con competenze adeguate. Su questo noi stiamo lavorando sia con la scuola per la formazione, sia sul tema della formazione continua ma anche stiamo lavorando con il nostro esperimento che abbiamo fatto a chilometro rosso dell'Academy per riconvertire professionalità e lavoratori per poter mettere a disposizione delle nostre imprese le competenze necessarie. E' un modello che funziona questo, quindi? A Bergamo direi che finora ce la siamo cavata bene, merito dei bergamaschi. Potremmo esportare anche questo noi in altre province? Ma sicuramente, noi nella nostra assemblea infatti cercheremo un po' di esaminare quelle che sono le caratteristiche del modello Bergamo, le caratteristiche che hanno fatto sì che la nostra provincia fosse non solo competitiva ma anche attrattiva di nuovi investimenti e quindi cercheremo di mettere in luce quelle che sono le caratteristiche, i tratti distintivi che offriamo volentieri al resto del paese. Solo un piccolo accenno alla nuova sede, come andiamo? Come vanno le cose? Bene, molto bene, siamo in tempo, si sta lavorando, si sta lavorando secondo i tempi previsti quindi contiamo di trasferirci ad agosto dell'anno prossimo, del 2019, quindi di poter fare l'inaugurazione a settembre, ottobre, quindi un anno data circa. De fatto un anno, molto bene, allora abbiamo giusto il tempo per ricordare la data dell'assemblea, della prossima assemblea di Confindustria, è il 23 ottobre, quindi martedì prossimo al pomeriggio. Al pomeriggio. Connessi verso il futuro Bergamo, modello di attrattività e di competitività, questi insomma sono i temi principali, ci saranno ospiti insomma di... Aperta a tutti. Aperta a tutti, con iscrizione possibilmente. Aperta a tutti, con iscrizione perché dovendo entrare in aeroporto, in area protetta, occorre registrarsi prima perché devono essere seguite procedure di sicurezza aeroportuali. Perfetto, quindi iscrizioni obbligatorie entro il 19, se non sbaglio, l'assemblea sarà all'aeroporto di ore a serie, quindi volerà anche... In un hangar dell'aeroporto. E anche, come dire, un po' particolare, bello, scenografico, che per chi volesse partecipare volesse entrare nel merito anche se non hanno addetto ai lavori, ma capire le dinamiche. Ci sarà anche il presidente nazionale, Vincenzo Boccio, ci sarà Stefano Palleari, l'ha detto, insomma, dei relatori di assoluto livello, ci sarà evidentemente anche il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia. La ringrazio per queste anticipazioni, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie mille, grazie a loro. Grazie a lei, l'approfondimento per il momento termina qui, ci troviamo tra poco ancora con l'informazione.